Cambio al vertice per il Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila. Il Comandante Provinciale, Colonello Antonio Servedio, ha salutato i militari dipendenti in vista del suo imminente trasferimento a Roma, a margine di una zabbandiera solenne, presieduto dal Comandante della Legione Carabinieri, Abruzzo e Molise, presso il Comando di Via Beato Cesidio. Al suo posto subentrerà il Colonnello Nazareno Sant'Antonio, proveniente dalla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, a cui il Colonnello Servedio ha formulato gli auguri di buon lavoro. Alla cerimonia solenne erano presenti tutti gli ufficiali, il personale dei reparti dipendenti, delle organizzazioni speciali presenti all'Aquila, alcuni rappresentanti delle sezioni delle associazioni nazionali carabinieri della provincia e degli organi della rappresentanza militare. Il Comandante ha espresso la sua riconoscenza a tutti i carabinieri della provincia per l'impegno che hanno avuto, dicendosi orgogliosi, per il livello di efficienza raggiunto, sia per i risultati conseguiti che per la convinta azione di supporto in favore della comunità in cui hanno operato. Da lunedì 2 luglio, il Colonnello Servedio assumerà l'incarico di direttore della Terza Divisione del Servizio per le relazioni internazionali, dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, del Ministero dell'Interno in Roma.